Un momento no dell'acqua e sapone unigross che in due gare abbordabili sulla carta porta a casa solo un punto, peraltro rischiando grosso a Genova, Fanalino in gran giornata. Assenze pesanti di Lucaiana e Mammarella sì, ma ricordi il vice di Stefano tra i pali è stato tra i migliori, illusori, gol di Raffigna prima e Calderoli dopo, Legna a parte i riguri hanno divorato alcune occasioni, a riprova della vena non felice dei nerazzurri scavalcati in testa dal Pesaro di Colini, anche se i marchigiani dovranno scendere ad aprire il palarigo piano. Dopo la pausa il Grand Derby con una Colormax Pescara di nuovo in posizione assai complicata dopo lo scivolone, ancora una volta con poca fortuna nello sconto salvezza con la Niene, Capitolini in giornata di grazia, Abruzzesi con qualche distrazione di troppo, oltre alle firme di Leandro e Andrea Ferreira. Succede, ma ora i rischi per il quintetto palusciano sono davvero tanti. In A2 la tombese Ortona, ancora senza pilastri del calibro di Assad e Bordignon, vissa l'ex plua di Giovinazzo espugnando anche Campobasso, 3-1 nelle immagini sul campo del Forte Cusmolise, quarta piazza riconquistata alla vigilia del recupero, stasera alle 19, terza trasferta di fila contro il coba dell'ex trainer Antonio Ricci, che ha trasformato la grande e la squadra di Porto San Giorgio dal giorno del suo insediamento. In A femminile il big match tra Montesilvano e Falconara finisce in parità, un 1-1 raggiunto grazie all'amparo dopo una certa pressione delle abruzzesi, che restano a meno 4 dalla Vetta. Vetta che in A2 conserva il Francavilla, che fa 2-2 a Rimini e mantiene da capolista inalterate le distanze, più 2 dalla vice Virtus Romagna, altro successo del Florida Pescara e bel pari esterno dell'Orione Vezzano.